Ciao a tutti, voglio presentare in questo video una ricetta vegana di Monica, che è adatta per Halloween, un aperitivo di Halloween. Le dita di strega vegana, l'aperitivo di Halloween. Allora, quali sono gli ingredienti? Abbiamo la pasta brisé, 200 grammi di farina tipo 1, 50 grammi di farina di riso, 100 grammi di acqua fredda, 90 grammi di olio di extravergine d'oliva e un pizzico di sale, un cucchiaino raso di zucchero di canna, facoltativo, se volete metterlo lo mettete, altrimenti no, e poi le mandorle e semi di sesamo per decorare. Dopodiché, la preparazione. Mettete le farine setacciate sulla spianatoia, insieme al sale e allo zucchero. Aggiungete l'olio e impastate dal centro, partendo dal centro. Aggiungete un po' che alla volta l'acqua fredda e impastare tutto fino a tenere un panetto morbido. Avvolgere con la pellicola e mettere a riposare in frigo per mezz'ora. Dopodiché, che fare? Stendere quindi la pasta facendo un salcicciotto da tagliare per formare le dita. Mettete pochi semi di sesamo e una mandorla per fare l'unghia. Praticare i taglietti per le falangi. Vediamo la cottura. Allora, bisogna cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 25-30 minuti. E poi, alla fine, è pronto a decorare con salsa di pomodoro. È un aperitivo molto sfizioso per Halloween. E ringrazio Monica per aver fornito la ricetta. Bene, per questo video è tutto. Vi do appuntamento al prossimo. Iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete con i vostri amici. Ciao!